san giovanni damasceno colui che in un certo qual modo divinizzò la materia di corrado nierre la vita san giovanni damasceno nacque intorno al 675 a damasco in siria da ciò il nome damasceno egli in realtà si chiamava giovanni mansur il padre era ministro delle finanze giovanni si dedicò subito agli studi e per i suoi meriti divenne consigliere e amico del califo proprio a damasco giovanni fece un'amicizia che sarà determinante per la sua vita conobbe cosmo un monaco siciliano che era stato portato in quella città come schiavo frequentandolo si accorse che il signore lo chiamava alla vita monastica e così insieme al fratello che poi diverrà il futuro vescovo di maionna decise di ritirarsi nella laura di san saba presso gerusalemme qui ricevette l'ordinazione sacerdotale grazie alla sua grande preparazione teologica fu scelto come predicatore titolare della basilica del santo sepolcro san giovanni damasceno per importanza della sua dottrina è stato anche definito il santo maso dell'oriente e papa leone xiii nel 1890 lo proclamò dottore della chiesa morì nel 749 grande difensore delle immagini l'imperatore d'oriente leone terzo nel 726 da costantinopoli decretò l'iconoclastia ovvero la distruzione di tutte le immagini sacre perché ritenute erroneamente fonte di idolatria giovanni damasceno fu il grande difensore delle immagini in oriente si ricordano tre suoi discorsi contro gli iconoclasti riguardo all'iconoclastia si racconta un episodio edificante l'imperatore leone terzo decise di calugnare giovanni presso il califo di damasco quest'ultimo cadde nel tranello e ordinò che giovanni fosse punito con il taglio della mano destra ma il santo si raccomandò alla vergine e le fece voto qualora avesse avuto salva la mano l'avrebbe per sempre usata per scrivere in suo onore e in onore della sua immagine la grazia venne accordata e san giovanni damasceno divenne il primo teorico del culto delle immagini il suo pensiero teologico conosciamo allora il suo pensiero teologico conosciamo allora il suo pensiero teologico prima di tutto giovanni mette in evidenza come la legittimità delle immagini la si debba soprattutto al mistero dell'incarnazione del verbo dio non solo è persona quindi distinguibile rispetto al creato ma ha voluto farsi veramente uomo prendendo altrettanto veramente la natura umana e rendendosi pertanto visibile egli scrive nel suo contra imaginum calumniatores in altri tempi dio non era mai stato rappresentato in immagine essendo incorporeo e senza volto ma poiché ora dio è stato visto nella carne del vissuto tra gli uomini io rappresento ciò che è visibile in dio il verbo incarnato rivela pienamente il padre il verbo incarnato rende visibile il padre chi ha visto me ha visto il padre giovanni 14 9 il mistero dell'incarnazione è il mistero del dio che vuole rendersi pienamente manifesto in nessun'altra religione troviamo una simile intenzione è anche per questo che solo nei contesti di tradizione cristiana le arti figurative abbiano potuto raggiungere i livelli più alti se dio si è manifestato visibilmente all'uomo allora l'immagine diviene un valore che si fonda anche metafisicamente in un certo qual modo non si può fare a meno dell'immagine ma c'è poi un altro motivo utilizzato da giovanni ed è quello della differenza tra adorazione e venerazione differenza che si deve proprio a lui la prima adorazione è un atto di culto che si può rivolgere solo a colui che è il fine della vita cioè dio la seconda la venerazione si può rivolgere a tutto ciò che costituisce un mezzo per poter più facilmente raggiungere dio dunque le immagini pur non essendo adorabili devono essere venerate scrive sempre nel contra imaginum calumniatores io non venero la materia ma il creatore della materia che si è fatto materia per me e si è degnato abitare nella materia e operare la mia salvezza attraverso la materia io non cesserò perciò di venerare la materia attraverso la quale mi è giunta la salvezza ma non la venero assolutamente come dio come potrebbe essere dio ciò che ha ricevuto l'esistenza a partire dal non essere ma io venero e rispetto anche tutto il resto della materia che mi ha procurato la salvezza in quanto piena di energie e di grazie sante non è forse materia il legno della croce tre volte beata e l'inchiostro e libro santissimo dei vangeli non sono materia l'altare salvifico che ti dispensa il pane di vita non è materia e prima di ogni altra cosa non sono materia la carne e il sangue del mio signore o devi sopprimere il carattere sacro di tutto questo o devi concedere alla tradizione della chiesa la venerazione dell'immagine di dio è quella degli amici di dio che sono santificati dal nome che portano e che per questa ragione sono abitati della grazia dello spirito santo non offendere dunque la materia essa non è spreggevole perché niente di ciò che dio ha fatto è spreggevole la materia è quasi divinizzata benedetto sedicesimo dedicando una sua catechesi a giovanni damasceno precisamente il 6 maggio del 2009 mise in evidenza come il pensiero del santo siriano abbia in un certo qual modo divinizzato la materia disse il papa a causa dell'incarnazione la materia appare come divinizzata è vista come abitazione di dio si tratta di una nuova visione del mondo e delle realtà materiali dio si è fatto carne e la carne è diventata realmente abitazione di dio la cui gloria rifulge nel volto umano di cristo pertanto le sollicitazioni del dottore orientale sono ancora oggi di estrema attualità considerata la grandissima dignità che la materia ha ricevuto nell'incarnazione potendo divenire nella fede segno e sacramento efficace dell'incontro dell'uomo con dio giovanni damasceno resta quindi un testimone privilegiato del culto delle icone che giungerà ad essere uno degli aspetti più distintivi della teologia e della spiritualità orientale fino ad oggi è tuttavia una forma di culto che appartiene semplicemente alla fede cristiana alla fede in quel dio che si è fatto carne e si è reso visibile l'insegnamento di san giovanni damasceno si inserisce così nella tradizione della chiesa universale la cui dottrina sacramentale prevede che elementi materiali presi dalla natura possano diventare tramite di grazia in virtù dell'invocazione epiclesis dello spirito santo accompagnata dalla confessione della vera fede grazie 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 grazie